L'universo così immenso è una meraviglia, ma chi tra le creature terrene può dirlo? Il cosmo è sbalorditivo per le sue leggi così complesse, ma chi tra le creature terrene può scandagliarlo? I tre regni della natura sono un capolavoro di bellezza, ma chi tra le creature terrene può ammirarli? Il creatore è pura trascendenza, ma quale creatura terrena può lodarlo e contemplarlo? Ogni uomo ha una dignità incomparabile perché è un capolavoro divino, ma spesso non ne è consapevole.